Una location fantastica, quella del secondo seno del Mar Piccolo per presentare quello che sarà, auguriamocelo, confidiamo molto nella nostra vittoria elettorale, il prossimo assessore all'ambiente e alle risorse del mare del Comune di Taranto. Come sapete sto individuando una serie di figure tecniche di altissimo profilo che costituiranno la nostra giunta, una giunta tecnica non politica. Ho il piacere di avere al mio fianco il dottor Mario Imperatrice, biologo marino, un ambientalista della prima ora, della prima ora perché ora tutti si scoprono ambientalisti, perché l'ambientalismo è una bella tigre da cavalcare e Mario Imperatrice faceva decenni e decenni fa, già da decenni fa, battaglie ambientali quando essere ambientalisti era passare per brutti, sporchi e cattivi. E allora Mario hai accettato questo invito a occuparti nella augurata nostra giunta di ridare vita a Taranto, una Taranto senza ilva, una Taranto che punti alle vocazioni naturali, alle sue vocazioni naturali, al mare innanzitutto. Per carità, io ti ringrazio per questo invito e in qualità di tecnico sono a disposizione di chiunque abbia delle buone intenzioni verso il nostro territorio, molto modestamente per quella che è la mia esperienza. Tu sei un biologo marino, un tecnico della materia? Sì, diciamo sicuramente sì, oggi vivo il mare, ho vissuto... Non essere modesto perché Taranto ti conosce. Ho vissuto il mare sia sulla superficie che sotto la superficie dell'acqua perché ha buona memoria e quindi diciamo ho una memoria storica anche di quello che è la storia ambientale tarantina. Mario, la tua è un'esperienza particolare, tuo padre era dipendente Italcider, era un falso benessere perché in quegli anni certamente gli stipendi erano pieni, non erano quei quattro soldi, quella miseria che oggi offriva Arcelor Mittal, Alexei Ilva e oggi Acciaierie d'Italia, però dico era un falso benessere perché se da un lato gli stipendi erano consistenti, dall'altro si soffocavano le altre possibilità di crescita e di sviluppo naturale del territorio e poi in maniera silente, in maniera subdola le patologie intaccavano appunto il fisico di chi ci lavorava e poi dopo anni comparivano quelle brutte sorprese che hanno portato tanta gente all'altro mondo. Ecco, è importante considerare anche questo aspetto di questo falso benessere? Dici bene perché in realtà noi in quegli anni abbiamo vissuto come se fossimo in una bolla economica in cui le variabili considerate non erano complete. Che cosa voglio dire? Se avessimo dovuto condurre un'analisi costi-benefici all'epoca, la variabile ambientale e la variabile benessere e salute della persona non sarebbero state comprese in questa analisi costi-benefici perché all'epoca la cultura e i valori, la scala di valori era diversa. Oggi ovviamente ci siamo accorti con estremo dolore che tutto quel benessere dell'epoca ci ha presentato il conto. Con tante persone che purtroppo non ci sono più. Certo, con tante persone che non ci sono più e con una serie di guasti ambientali che richiedono notevole tempo per essere risolti. Adesso non voglio entrare in tecnicismi nei tempi di decatimento degli elementi inquinanti e quant'altro, però la questione è così. Ora, forse oggi a bocce ferme, se così possiamo dire, ma ferme non sono purtroppo, ci accorgiamo che un posto di lavoro nell'industria ci ha sottratto un posto di lavoro nella pesca, nel turismo, nell'agricoltura, nella vita. Eh, se non ci ha sottratto la vita. Quindi la questione per Taranto va affrontata secondo una svolta decisiva, cioè bisogna avviare il prima possibile un nuovo modello di sviluppo basato sulle risorse naturali. Anche perché questo, e ci tengo a dirlo, questo tipo di sviluppo assicura un piatto di minestra a tutti, tutti i giorni, mentre quell'altro tipo di sviluppo basato sul livello industriale, vista l'estrema variabilità dei mercati mondiali, può far trovare decine di migliaia di persone il giorno dopo senza lavoro e senza un piatto di minestra. Fatta questa premessa, diciamo, doverosa, necessaria dal punto di vista, chiamiamolo sociologico, beh, Taranto senza Ilva, una Taranto che deve vivere di altro, perché Taranto ha speso troppo in termini di vite umane, di malattie, per un mostro che ha soltanto ucciso. Ucciso è portato anche miseria, perché ora abbiamo visto qual è la condizione anche economica degli operai. La risorsa mare. Non a caso io ho voluto affidarti proprio questo compito, questa delega, per quanto riguarda appunto le risorse del mare e l'ambiente. Sono un unicum. Il mare come volano, come alternativa a quell'industria assassina. Sì, noi dobbiamo riflettere, dobbiamo lavorare per un modello di sviluppo alternativo all'industria. Il discorso sull'Ilva ci porterebbe lontano. Io sono un figlio dell'Ilva, perché mio padre, non c'è più pace all'anima sua, è stato uno dei primi 40 assonti dell'Italsedele. Io ho vissuto in un benessere portato dall'economia dell'Ilva, che però ha sottratto altri posti di lavoro in altri settori strategici per questo territorio. Agricoltura, pesca, turismo, servizi a questi settori. Senza considerare che in maniera silente, dietro un apparente benessere, parliamo di quando c'erano i 40.000 posti pieni, però poi in maniera silente sottraeva la vita, perché le patologie si insinuavano e poi si scoprivano le sorprese. Poi tutto questo sistema ci ha presentato il conto, che paghiamo con lacrime e sangue. Però oggi mi meraviglio ancora come si trovano ancora delle resistenze quando si pensa a poter sviluppare un modello alternativo di sviluppo per questo territorio, basato sulle risorse che noi abbiamo. Le sorse naturali, il mare in primis ovviamente. Taranto, voglio dire, è una città di mare, ma mi vuole dirlo, è una città che ha ancora lo sguardo girato dall'altra parte. Perché? Perché continuiamo a fare un elenco di potenzialità enormi, no? Ne cito solo alcune. Basta pensare alle isole, quello che potrebbero diventare... Le Cheradi. Le Cheradi, le isole. San Pietro e San Paolo. Certo. Cosa potrebbero diventare con un turismo... Ecco, Mario, perdonami se ti interrompo. Facciamo conto che siamo ai primi di giugno, abbiamo vinto le elezioni, tu hai la tua delega assessorile alle risorse del mare e all'ambiente. Da dove partire? Io partirei proprio dalle isole, perché le isole hanno trovato una loro destinazione finché esisteva un'esigenza militare. Ma quando questo vincolo militare viene a cadere... Con le dismissioni della Marina. Con la dismissione... Parliamo di San Paolo innanzitutto. Parliamo di San Paolo, ma io non escluderei San Pietro, perché le stazioni di telecomunicazione che ancora oggi sono lì, qualcuna è stata anche dismessa da quello che mi risulta, potrebbero trovare sicuramente un'altra allocazione. Immaginiamo queste navette, il turismo, l'economia del mare avanti e dietro e anche strutture ricettive, ecocompatibili su queste isole. Assolutamente sì, si può pensare comunque a un turismo in relazione a una fruibilità guidata. Immaginiamo cosa possa diventare lo sviluppo della nautica. Noi abbiamo ancora carenza di posti barca a Taranto. Non si fa un discorso sul potenziamento di queste strutture per la nautica. Noi dovremmo fare soltanto una cosa molto semplice, imitare quello che fanno le altre città di mare, molto semplicemente. Se dovessi portare un primo contributo, incomincerei a lavorare su un accordo di programma con la regione sulle isole, perché non prendiamoci in giro. Se prima non si fa un piano, chiamiamolo come vogliamo, non adottiamo uno strumento urbanistico che ci dica che cosa possiamo fare sulle isole, perché lì ci confrontiamo con vincoli di carattere ambientale, archeologico, demaniale, quindi chiunque voglia fare qualsiasi iniziativa sull'isola deve farlo secondo delle norme, tecniche e attuazioni che devono dettare le regole con cui fare queste operazioni. Quindi se non ci vogliamo prendere in giro, dobbiamo incominciare a fare questo. Noi abbiamo l'oro e l'apostrofo oro nel mare, è in riferimento alla miti di cultura. Sì, io non mi fermerei sulla miti di cultura perché si possono fare molte altre cose. Non a caso questo settore dell'acquacultura è compreso nelle norme tecnico-amministrative della agricoltura. Noi dovremmo fare un salto culturale, pensare al mare come un campo da coltivare. Questo lo si può fare e lo si deve fare anche in ottemperanza a quelle che sono le ultime direttive della Marine Strategy che ci viene dalla comunità europea, in cui le attività delle produzioni marine devono essere inserite nel contesto ambientale, inserite nel migliore dei modi, in una dimensione di ecosostenibilità. Quindi il Mar Piccolo ci regala le cosse e le cosse devono contribuire alla sostenibilità del sistema Mar Piccolo. Taranto senza Ilva, il nostro movimento, non ha una connotazione politica, partitica. E consentitemelo, il movimento della vita per far capire che un'altra vita, anzi la vita, è possibile a Taranto. Non quella pseudo vita che si vive all'ombra delle ciminiere. Sì, sicuramente abbiamo bisogno di una svolta da questo punto di vista. Noi ancora oggi stiamo a ragionare, per esempio, sulla questione della mitilicoltura, a cui tu accennavi prima, cercando di creare i prerequisiti affinché questo settore si possa sviluppare nella norma. Oggi ci viene sottratta una grossa porzione di mare nel ciclo zootecnico dei mitili, per cui non possiamo utilizzare appieno le concessioni del Primo Seno. Quindi abbiamo ancora una logistica che è tutta da inventare. E quindi questo ci impedisce anche di lavorare su un modello di impresa ecosostenibile. Perché è vero che ci lamentiamo delle retine di nylon. E io su questo è partita una grande campagna di sensibilizzazione degli operatori. Ma è anche vero che non abbiamo dove gettare i rifiuti. Dove smaltire. Certo, per cui, come devo dire, il settore è pronto ed è maturo anche dal punto di vista della consapevolezza. Deve essere messo nelle condizioni di potere. Della consapevolezza del fatto che le acque vanno tutelate proprio nell'interesse della qualità del prodotto. E però ci deve essere anche un'organizzazione logistica. Qui siamo in una bella location che potrebbe sembrare anche un elemento folkloristico, ma rendiamoci conto che queste strutture sono state costruite in maniera abusiva perché gli operatori non hanno dove ricoverare le barche, non hanno servizi igienici, non hanno magazzini. Quindi da questo punto di vista... L'area deve essere infrastrutturata. Ci vuole. Ecco, probabilmente un tema che sicuramente potrà essere di interesse e, se sappiamo gestirlo bene, può rappresentare una importante occasione di sviluppo rispetto alla logistica, è il Parco del Mar Piccolo. Il Parco del Mar Piccolo che può, con un piano di gestione opportunamente finanziato, con un comitato tecnico e serio che si ponga effettivamente una serie di problematiche strategiche, può diventare un'opportunità importante per una infrastrutturazione ecosostenibile.